Buongiorno amici, bentornati, un saluto dal vostro Adobora. Allora, andiamo avanti subito con il libro Un corso in miracoli e precisamente con la lezione numero 4. Questi pensieri non significano nulla, sono come le cose che vedo in questa stanza o in questa strada, da questa finestra, in questo luogo. A differenza dei precedenti, questi esercizi non cominciano con l'idea del giorno. In questi periodi di pratica, incomincia con l'osservare i pensieri che ti attraversano la mente per circa un minuto, poi applica ad essi l'idea. Se sei già consapevole di pensieri tristi, usali come soggetti su cui applicare l'idea. Comunque, non selezionare solo i pensieri che pensi siano cattivi. Quindi, scoprirai se ti esercita ad osservare i tuoi pensieri che rappresentano un tale miscuglio che, in un certo senso, nessuno di essi può essere chiamato buono o cattivo. Ecco perché non significano nulla. Nel selezionare i soggetti per l'applicazione dell'idea di oggi è richiesta la solita specificità. Non aver paura di usare pensieri buoni, così come quelli cattivi. Nessuno di essi rappresenta i tuoi reali pensieri, che sono soffocati da essi. Quelli buoni non sono che ombre di ciò che sta dietro, e le ombre rendono difficile la vista. Quelli cattivi sono blocchi alla vista, e rendono impossibile il vedere. Tu non vuoi né gli uni né gli altri. Questo è un esercizio fondamentale, e sarà ripetuto di tanto in tanto, in forma in qualche modo diversa. Lo scopo qui è di allenarti nei primi passi verso l'obiettivo di separare ciò che è senza significato da ciò che ne ha. È il primo tentativo nel perseguire lo scopo, a lungo termine, di imparare a vedere fuori di te ciò che è privo di significato, e dentro di te ciò che è significativo. È anche l'inizio nell'addestrare la tua mente a riconoscere ciò che è la stessa cosa e ciò che è diverso. Nell'usare i tuoi pensieri per l'applicazione dell'idea di oggi, identifica ogni pensiero tramite la figura o evento centrale che contiene. Per esempio, questo pensiero riguardo qualsiasi cosa non significa nulla. È come le cose che vedo in questa stanza, in questa strada e così via. Puoi anche usare l'idea per un pensiero particolare che riconosci come dannoso. Questa pratica è utile, ma non è un sostituto per le procedure più casuali che devono essere seguite negli esercizi. Comunque, non esaminare la tua mente per più di un minuto circa. Sei ancora troppo inesperto per evitare la tendenza a preoccuparti inutilmente. Inoltre, dato che questi esercizi sono i primi nel loro genere, potresti trovare particolarmente difficile la sospensione di giudizio in connessione coi pensieri. Non ripetere questi esercizi più di tre o quattro volte durante il giorno. Ci ritorneremo sopra più avanti. Bene amici, e questa era la lezione numero 4. Ci vedremo per la lezione numero 5. Ciao!